buonasera a tutti scusate la piccola attesa adesso abbiamo risolto tutti i problemi benvenuti a questo quarto incontro della nostra rassegna scienza ultima frontiera lo spazio e il tempo stiamo in questi incontri indagando il mistero del tempo e questa sera lo vedremo dall'interno cioè vedremo il tempo così come il cervello lo vede o lo sente o non lo so come si dice come lo percepisce dicevamo l'altra volta il tempo non si può mettere sotto il microscopio però oggi possiamo analizzare l'organo che il tempo lo sente possiamo vedere forse dentro il nostro cervello che cosa succede quando il nostro cervello batte il ritmo del tempo a farci da guida in questa avventura che è sempre affascinante perché quando si entra nel cervello umano rimaniamo tutti sempre molto affascinati abbiamo un personaggio che non esito a definire eccezionali cui sono molto contento che sia tra noi marcello massimini medico neurofisiologo dell'università statale di milano si occupa di coma e coscienza abbiamo scritto sul volantino e qualcuno mi ha chiesto cosa vuol dire e io vi dico la risposta quando lo inviteremo la prossima volta gli faremo parlare di quest'altro che è il vero campo delle sue indagini mentre questa sera l'abbiamo costretto a studiare cioè di occuparsi di una cosa che non è la solita di cui lui si occupa per cui ci vuole un po male ma vabbè insomma credo che sarà una bellissima serata partecipa con due suoi progetti allo human brain project che è il grande progetto decennale europeo di studio del cervello e quindi veramente una persona che meglio di noi non sapevamo chi scegliere e quindi siamo qua stasera in attesa di entrare in questa che è stata definita la macchina più affascinante dell'universo il nostro cervello chiediamo scusa come sempre alle persone che sono andate in biblioteca e perché non hanno trovato più posto salutiamo anche alcuni gruppi che sono collegati in streaming abbiamo il gruppo di peschiera borromeo abbiamo qualche studente del cimec di roveretto e c'è qualcuno che protesta ancora per entrare ma in biblioteca ci si vede ci si sente benissimo ora per entrare nel clima di questa serata da tutti attesa vorrei fare un passaggio di attualità cosa è successo di importante questa settimana hanno eletto il nuovo presidente degli stati uniti d'america qualcuno ha visto e sentito il suo discorso qualcuno si è chiesto ma la conta giusta oppure no sapete chi il che è il miglior candidato a rispondere a questa domanda sono gli afasici chi sono gli afasici sono quelli che hanno un problema di linguaggio cioè non riescono a elaborare parole e quando sentono le parole quelle parole per loro non hanno praticamente nessun significato e allora come fanno a giudicare il discorso di un presidente lo fanno sì perché loro che cosa colgono di un discorso colgono i toni colgono la postura la mimica la gesticolazione colgono tutte quelle sfumature che fanno dire se quel discorso era affidabile o no qualcuno forse avrà capito che sto citando uno dei racconti che oliver sachs noto medico fa nel suo curiosissimo libro che si chiama l'uomo che scambiò sua moglie per un cappello e racconta tante storie di pazienti che hanno dei problemi anche piuttosto curiosi e lui racconta come una volta nel reparto degli afasici mentre il presidente degli stati uniti d'america faceva un discorso accorato pieno di pathos questi afasici ridevano ridevano perché loro non percepivano il significato delle parole ma capivano dal suo modo di porsi che non la stava raccontando giusta insomma e l'afasia l'afasia mi fa pensare un'altra piccola storia lasciatemela raccontare chi ha scoperto l'afasia ovviamente gli addetti ai lavori lo sanno benissimo ce ne sono diversi in sala ma noi profani io non lo sapevo sono andato un po a cercare e ho scoperto questa curiosa storia di pierre paul broca che è un medico francese che in realtà voleva fare l'ingegnere il quale è stato il primo a fare una scoperta che oggi è considerato una pietra migliare delle neuroscienze perché lui lavorava in questo ospedale pieno di pazienti c'era un paziente che si chiamava le borne ma tutti lo chiamavano tan perché tan perché il poveretto ripeteva solo quest'unica sillaba per 21 anni è stato in quell'ospedale dicendo solo tan 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 e il povero broca ha cercato di curarlo ma ha capito che cosa poteva avere solo quando gli ha fatto l'autopsia il 18 aprile 1861 ha trovato una lesione leggo perché è impossibile che me lo ricordi nella terza circonvoluzione possibile dopo mi correggerà e lì disse quella frase che è considerato l'inizio delle neuroscienze noi parliamo con l'emisfero sinistro per la prima volta la conoscenza umana dice il cervello non è tutto uguale ogni zona le sue specializzazioni e lì sono iniziati studi che non sono finiti più broca poi ha trovato un altro paziente e purtroppo di nuovo con l'autopsia ha trovato conferma la sua ipotesi e quindi broca che era veramente un personaggio che le cronache descrivono come mite un uomo simpatico molto gioviale con i suoi pazienti è stato eletto senatore a vita ma non ha resistito molto perché è morto appena stato nominato insomma era un personaggio strano perché aveva delle idee curiose perché lui diceva che ci voleva la sanità pubblica per tutti l'istruzione per tutti persino per le donne ricordate l'altra volta dicevamo le donne che non potevano studiare l'università né in russia né nell'america però aveva anche detto che siccome le donne hanno il cervello più piccolo quindi sono inferiori intellettivamente l'aveva proprio scritto insomma e l'ha scritto che marie curie era già nata ve la ricordate la storia di marie curie ecco cervello piccolo era un personaggio piuttosto strano meglio ricordarlo per le sue scoperte scientifiche che per queste sue strambe teorie che poi sono anche degenerate nella ricerca sulle razze ecco per cui adesso possiamo entrare in questo mondo perché volevo farvi un paio di racconti proprio per entrare nel clima perché quando parliamo di cervello parliamo di noi stessi e parliamo del dolore della sofferenza anche di tanti pazienti per cui i nomi che bisognerebbe fare non sarebbero brocca ma sarebbero quello di tan di altri pazienti che hanno sofferto e che la loro sofferenza hanno aperto la strada alla conoscenza umana l'ospite che abbiamo oggi e voglio proprio citare una sua dichiarazione quando ha avuto la conferma che due dei suoi progetti hanno stati selezionati tra i molti presentati in tutta europa lui ha dichiarato ovviamente di essere molto contento ma ha detto che di questo ingente investimento finanziario perché ci sono tantissimi soldi su questo progetto bisognava fino all'ultimo centesimo rispondere uno direbbe all'europa ai cittadini e lui ha detto al letto dei pazienti questa connessione tra la ricerca scientifica e le sue applicazioni per alleviare la sofferenza umana è sempre presente nella storia delle neuroscienze e nell'ospite a cui do subito la parola grazie e benvenuto beh grazie grazie manno per queste parole è vero che ho detto non so dove è vero che l'ho detto lo penso ma non dove l'hai trovato sul comunicato stampa dell'università statale di milano lo ribadisco è così mi sentite poco ora ok e vi ringrazio veramente per avermi invitato qui sono sono felice anche se come dicevo prima vi ho un po così è una grana insomma dover parlare di cose che che non sai quando arrivi vicino che mancano tre settimane dici oh no e adesso da dove comincio cioè non tanto non ancora il contenuto è ovvio che io insegno all'università insegno la medicina insegno la neurofisiologia il cervello e che il cervello ha a che fare col tempo quanto tempo ci mette un neurone a trasmettere informazione eccetera eccetera però è anche vero che il tema no di petto cervello e tempo non l'avevo mai affrontato e non è un tema facile quindi tanto per cominciare mi sono chiesto ancora prima di aprire un articolo di cercare gli articoli su internet di pensare di leggere un libro mi sono chiesto ma che taglio do a questo cosa vado a cosa vado a raccontare e avrei vi dico quello che ho pensato di raccontarvi prima e che non vi racconterò giusto per darvi un'idea del processo mentale dietro a uno che viene a parlare così ho detto beh il tempo ha un effetto sul cervello lo sappiamo tutti allora incappi nei miti quelle mitologie tipo che perdiamo 150 mila neuroni al giorno poi in realtà magari si va a vedere non è vero le stime basate su la riduzione del volume cerebrale sono sui 7 mila neuroni al giorno però altri ne nascono per cui è difficile dire comunque sicuramente il tempo ha un effetto sul cervello se non sul numero di neuroni sicuramente sulla connettività cioè su come questi neuroni sono connessi tra di loro questo sicuramente è un fatto cioè noi nasciamo con un cervello iper connesso dove tutto è connesso con tutto una specie di marmo da scolpire e poi l'interazione con la realtà da quando forse anche da prima dell'uscita dalla pancia della mamma ma sicuramente non appena neonato esce guarda gli occhi lì inizia a succedere l'ira di dio nel senso che gli input sensoriali le loro proprietà statistiche tutti i sensi uditivo tattile eccetera concorrono piano piano a scolpire queste connessioni a creare forme uniche che sono poi le forme che danno luogo alla nostra esperienza chiaramente un bambino appena nato non vede perché vede si ha un hardware ben fatto ma è una tabula rasa vede perché le connessioni vengono scolpite alcune vengono selezionate alcune rinforzate altre vengono distrutte ed eliminate questo lo sappiamo benissimo come si evolve se una persona un problema alla cornea e a 40 anni glielo aggiustano non vede comunque perché il suo cervello non si è abituato a vedere ci metterà tanto tempo a vedere non vedrà mai come una persona normale cervello cambia col tempo le sue connessioni cambiano pesantemente col tempo basta pensare cosa succede al lobo frontale durante il nostro sviluppo e ai tormenti e le tempeste comportamentali che lo sviluppo del lobo frontale ci regala durante l'adolescenza tutte ce le ricordiamo perché c'è un momento critico in cui lobo frontale inizia insomma da prima aumenta poi si riduce poi si selezionano le connessioni poi c'è un processo di mielinizzazione per cui le fibre che portano i segnali nervosi vengono isolate finalmente conducono bene ma prima che tutto questo accada e si finisce a vent'anni succede quello che sapete e io da adolescente e mi ricordo com'ero e non so come ha fatto i miei genitori anche voi avete un'esperienza simile se guardo indietro il mio cervello probabilmente è cambiato tantissimo è cambiato rispetto a quando avevo quattro anni è cambiato rispetto a quando avevo 16 e ora io sono probabilmente molto diverso ho una memoria di me per cui ricostruisco una storia che ero io ma probabilmente non ero io secondo me si vive e si muore tante volte nel corso del tempo e nell'arco di una vita perché si nasce in un modo si cambia prima si distingue il latte dall'acqua e poi si iniziano a distinguere tutti i vini della toscana alcuni non io quando sono stati prodotti dove quelli toscani da quelli tutte queste discriminazioni tutto questo repertorio infinito è tutto scritto nella connessione le connessioni tra i neuromi il cosiddetto connettoma adesso si chiama connettoma va di moda come il genoma si studia come è connesso il cervello questo per dire che è affascinante tutto questo dubbiamente avrei potuto parlare di questo è affascinante e anche esistenzialmente molto interessante il fatto che io potrei essere molto più simile a te adesso che a me stesso 30 anni fa è un concetto che ti distacca anche dalla tua è liberatorio un certo senso perché ti distacca da tua individualità e se muori non è la prima volta che muori sono già morto io non sono più quello che ero prima ci sono tante cose che si potrebbero dire d'altra parte però se avessi preso questa strada poi mi son detto non avrei dato avrei fatto un torto al cervello perché l'avrei trattato come qualsiasi altro oggetto fisico l'avrei trattato in una montagna scavata da un fiume carsico l'avrei trattata come un albero che perde le foglie d'autunno come qualcuno che subisce il tempo come una stella che si spegne nelle centinaia di migliaia di anni ma il cervello non è così il cervello non lo subisce il tempo il cervello lo crea sì lo subisce un po certo prima o poi questa piccola macchina oleosa di un chilo e mezzo si ferma e quando si ferma si ferma però lo crea anche e questo è il punto fondamentale cioè questo gelatinoso chilo e mezzo di materia e qui cito quello che avrei detto nella tipica lezione sulla coscienza ma questa volta non posso dirlo ma solo questo prendo è miracoloso perché è piccolo quando si prende in mano non ha niente di speciale bruttino eppure ospita qualcuno che sente qualcosa c'è un famoso detto che pare risalga diciamo ragionamento che aveva fatto george berkeley che dice che rumore fa un albero che cade in una foresta deserta in cui non c'è nessuno a sentire in cui non ci sono cervelli coscienti che rumore fa e la risposta è nessuno non fa nessun rumore fa delle onde di pressione ma se non c'è un orecchio collegato a un cervello cosciente il rumore non esiste il suono non esiste e in un universo disabitato da cervelli coscienti non esistono i colori non esistono le forme non esistono i suoni non esiste lo spazio e non esiste il tempo quando voi vi svegliate da un'anestesia ben fatta e vi svegliate dopo due ore no chi di io ho avuto un intervento chirurgico di un'ora e mezza mi sono svegliato e per me non esistito nulla neanche il tempo si sono cucite così le cose nulla è esistito né spazio né tempo né colori né angoscia né dolore niente di niente di niente mentre magari per i miei familiari per i familiari di sta fuori quelle quell'ora e mezza sono durate sei ore quindi il tempo si comprime e si dilata e lo genera il cervello questa è la prima cosa che vi vorrei dire e dimostrare e vorrei anche dire che il tempo soggettivo quello vero quello di cui abbiamo esperienza quello che esiste è molto diverso dal tempo fisico c'è un abisso il tempo soggettivo ecco perché ho fatto questo orologio ecco mi sono permesso di turpare questa orologio di da lì e l'ho appoggiato mollemente su una corteccia cerebrale perché il tempo soggettivo non è scandito dall'orologio atomico di greenwich è scandito in modo molto più libero dal ticchettivo dei neuroni e qua ho disegnato un neurone che scarica forse troppo regolare quello che ho disegnato in realtà sono molto più regolari questo sembra un orologino ma il fatto che voglio dirvi prima cosa è che il tempo lo crea il cervello e lo vi voglio dimostrare perché anche qui no potevo prendere l'approccio filosofico ma non lo saprei neanche da dove cominciare però la concezione del tempo aristotele sant'agostino cante eccetera eccetera uno non lo so due faccio il neurofisiologo faccio gli esperimenti per cui vorrei partire con un banale esperimento a dimostrare che il tempo si può contrarre ed espandere il tempo vero quello soggettivo ora partiamo dalla compressione questo è un fenomeno noto da tempo 1898 è stato descritto per la prima volta e richiede un piccolo esperimento che adesso non vi faccio fare mi sarebbe piaciuto avere 200 specchi piccolini da darvi e dire fate questo esperimento però si può fare a casa adesso chiedo a ermanno se si presta a fare questa cosa ti chiedo di tenere lo specchio davanti a te in modo da vedere entrambi gli occhi e poi di fissare il tuo occhio sinistro e poi il destro poi sinistro e poi il destro ok vedi i tuoi occhi che si muovono allo specchio assolutamente no provate anche voi adesso non c'è la luce giusta uno ho pensato magari ve lo faccio fare nello specchio nel lo schermo del telefono ma non c'è abbastanza luce vi assicuro provate a farlo a casa se qualcuno la borsa dei trucchi qua potete possiamo far girare lo specchio se volete provate non non ci riuscirete mai guarda l'occhio sinistro e poi dopo guardi quello destro sinistro destro sinistro destro io il tuo movimento oculari lo vedo infatti se io guardo il mano o se gli chiedo fissa il mio occhio sinistro poi il destra vedo due bei movimenti oculari voi no io neanche è impossibile impossibile vederli eppure durano quindi questo soggetto che sta facendo questo non li vedrà mai provateci a casa potete a casa si può fare una cosa molto interessante si può ci si può guardare lo specchio poi se volete vi registrate col telefonino registrato un video mentre fate la stessa cosa e poi lo vedi lo vedete cosa succede se andiamo a registrare nel cervello di questa persona prendiamo un neurone del sistema visivo il sistema visivo è molto grosso la visione molto importante per noi umani occupa diciamo grossolanamente un quarto un terzo del cervello peschiamo un neurone a caso e registriamo che cosa fa allora quello che fa un neurone è che poco prima che ci sia un movimento oculare quindi il movimento oculare è qua poco prima i neuroni smettono di scaricare è un fenomeno noto si chiama saccadic suppression soppressione saccadica perché questi movimenti veloci si chiamano saccadi questi movimenti li facciamo per fissare le cose che ci interessano io continuo a farli adesso se avessi un dispositivo per registrare i movimenti oculari i miei occhi si muovono continuamente così se ne fanno tanti guardate quanto ne fa questo signore facciamo continuamente durano un tempo considerevole 50 millisecondi 60 millisecondi e non li vediamo perché non li vediamo perché si spegne gran parte del cervello si spegne in quel momento si spegne prima perché sa che ci sarà quel movimento perché si spegne perché sarebbe nauseante no se se noi vedessimo fossimo consapevoli conci se vivessimo il tempo di un movimento oculare la nostra vita sarebbe impossibile sarebbe veramente veramente fastidioso uno non ci si vede perché la retina non fa tempo a inquadrare l'immagine due è molto fastidioso è proprio una cosa che darebbe le vertigini alla nausea per cui succede questo di movimenti ne facciamo tanti quando fissiamo un quadro come quello e registriamo i movimenti oculari con delle macchine particolari che siamo eye tracker che seguono i movimenti degli occhi vedete che noi osserviamo la scena non tutte in modo omogeneo anche se abbiamo l'illusione di saperla tutta ma ci focalizziamo sulle cose che per noi umani sono importanti visi le mani eccetera eccetera ma li facciamo continuamente ne facciamo veramente tanti ne facciamo tre o quattro al secondo di questi movimenti ne facciamo 150 mila al giorno ognuno dura 50 mili secondi e per tutto questo tempo questo tempo non esiste per lo meno per il sistema visivo è inesistente cervello prende e cuce provate a casa davanti allo specchio e vedrete cosa succede se non fosse così noi avremo ma ma noi non ci rendiamo conto di questi silenzi nel cervello non è che sono dei tempi bui o dei tempi vuoti non è così il film della vita interrotto da questi schermi neri no quello che succede e la cosa sparisce quel tempo lì viene completamente collassato e sparisce non c'è più quindi questo è rimane un mistero di come il cervello faccia questo taglia in colla di come questo buco venga eliminato riempito ma sta di fatto che dal punto di vista soggettivo quei 50 millisecondi ripetuti tra 4 volte al secondo 150 mila volte al giorno non ci sono e non esistono e questa è una bella dissociazione questo è un esempio di compressione poi ve ne farò qualcun altro adesso voglio farvi però esempio di segno opposto una dilatazione del tempo allora adesso vi chiedo di guardare lo schermo e vi anticipo cosa ci sarà per semplificare un po la vita ci sarà un orologio un orologio di quelli classici e voi guardate la lancetta e poi vi chiedo una cosa ora vi chiedo è vero o non è vero che il primo movimento il primo secondo è durato molto di più di quelli dopo è vero o non è vero riproviamo adesso lo sapete non c'è trucco non c'è inganno dura esattamente uguale ma il primo secondo non sembra il doppio del secondo secondo del terzo secondo del quarto secondo allora questo fenomeno si chiama cronostasi ed è una delle poche cioè ci sono voi siamo tutti familiari con illusioni ottiche ce ne sono tantissime di illusioni temporali ce ne sono meno ma sono tutte interessanti e questa è una è incredibilmente più lungo il primo secondo ma in realtà fisicamente non lo è ma nel cervello lo è allora prima abbiamo visto dei neuroni che quando scaricano meno il tempo si contrae si silenziano e il tempo non esiste più qui abbiamo un incontrario c'è un tempo che si dilata che fisicamente uguale che si dilata cosa c'è sotto c'è sotto che quando voi vedete il primo secondo è un fatto rilevante perché io vi chiedo guardate l'orologio è la prima volta che lo vedete ci prestate attenzione ci mettete il fuoco della vostra testa i vostri neuroni scaricano un po di più condensano più informazione dedicano più informazione a quella cosa e quel tempo si dilata è effettivamente così perché questo è un caso particolare di un fenomeno più generale che si chiama oddball effect cioè effetto novità adesso guardate questo che è la stessa cosa ma poi andiamo a vedere cosa fanno i neuroni è vero o no che la tigra è durata di più anche il primo pesciolino dura più del secondo è vero o no ma non è vero fisicamente non è vero è nel vostro cervello che è durato di più nel mondo fisico no no io lo posso calcolare in millisecondi quanto dura sul mio computer ma non è affatto così perché perché il primo pesciolino è nuovo il secondo e il terzo non ci dedicate tanta attenzione la tigre il cervello dice ah caspita questa è una cosa nuova e ci sono dei meccanismi neurofisiologici che hanno delle ovvie funzioni adattive evolutive di sopravvivenza per cui il cervello tende a risparmiare energia quando le cose non cambiano quando le cose si ripetono perché inutile dedicarci attenzione no e poi invece fa un'iniezione di energia e di attività neurale per esaminare le cose nuove perché lì devi decidere cosa fare se stare o scappare a seconda che sia un pesciolino rosso o una tigra e quindi c'è chiaramente un effetto rarità novità questo è una legge generale di come funziona il cervello ha un sacco di senso è inutile i neuroni possono scaricare da 0 volte al secondo a 400 volte al secondo e da un punto di vista metabolico energetico la spesa è completamente diversa i neuroni ce ne sono 100 miliardi ed è chiaro che l'economia del cervello è molto ben regolata e quindi non si sprecano scariche nervose per cose noiose o ripetitive o comunque non rilevanti per sopravvivere in un ambiente e invece si dedica molto alle cose nuove guardiamo infatti come scaricano i neuroni durante questo esperimento adesso facciamo finta che abbiamo registrato un neurone del vostro sistema visivo a un qualche livello del sistema visivo non importa dove primo pesciolino scaricano parecchio secondo pesciolino scaricano meno terzo pesciolino scaricano meno o ancora meno tigre scaricano tanto il vostro tempo soggettivo non era per caso e questi stanno qua lo stesso intervallo di tempo fisicamente ma il vostro tempo soggettivo non era forse più proporzionale a quanto hanno scaricato i neuroni se vi ricordate com'era l'esperienza ve la faccio rifare quindi è così il tempo quello che crea il cervello quello che c'è quello che esiste dipende da come scaricano i neuroni non dico che è proporzionale a quanto scaricano ma dipende da come scaricano i neuroni se i neuroni tendono a silenziarsi il tempo collassa se i neuroni scaricano di più il tempo si dilata più informazione ci mettiamo dentro su quella cosa più quella cosa è dura ma questa è una cosa nota quando si dice sono pochi quelli che hanno vissuto magari l'esperienza di andare molto vicino alla morte un incente stradale l'aereo che fa così e inizia precipita eccetera ma quanti raccontano di aver visto il fin della vita di aver pensato a questo quello tutto eccetera eccetera ci sono tantissimi racconti tutti noi l'abbiamo provato perché quando succede qualcosa almeno il tipico incente stradale più o meno grave che sia ma quando si chiede un resoconto di quello che è successo alla persona a patto che fosse vigile fosse consapevole non ubriaca eccetera il racconto è ti raccontano addirittura che faccia aveva quello che guidava dall'altra parte assomigliava a mio cugino e poi si è frantumato poi si è piegato lo specchietto poi si è frantumato il vetro dopodiché il volante poi la macchina ha fatto così sono tutte cose che sono successe in una frazione di secondo in un secondo due e vengono dilatate con un livello di dettaglio ricordate con un livello di dettaglio che non sarebbe mai possibile per un'esperienza ordinaria normale di quando voi guidate tenete la linea mediana e pensate ad altro oppure si ripetono gallerie dopo gallerie non c'è paragone è una dilatazione del tempo spaventosa spaventosa quando il cervello dedica molte risorse a una cosa nuova il tempo si dilata quindi non sta nel cronometro atomico di Greenwich ma sta nel cronometro molto più elastico e libero dei neuroni questo è un altro esempio classico chi decolla da un aereo con la porta aerei si gioca tutto sulla frazione di secondo è tutto lì sono allenati a fare questo nel senso che se la spinta non è abbastanza forte se si spegne il motore se il carrello come in questo caso il racconto di questo pilota collassa questo dice quando è un pilota di porta aerei che dice che racconta una sua esperienza quando il carrello anteriore è collassato sulla porta aerei e dice quando il carrello è collassato mi ricordo vividamente che nello spazio nel tempo di due secondi sono andato ho fatto una checklist di almeno dodici azioni possibili atte a recuperare l'atteggiamento di volo dell'aereo e queste procedure erano tutte lì ce le avevo davanti in due secondi le ho viste tutte dodici quanto tempo ci vuole in tempo fisico reale e tutto soggettivamente almeno lo ricorda come una cosa di due o tre minuti ricordava tutto e tutte le procedure e se gli chiedi di elencare quelle procedure ci mette due minuti ma erano passati tre secondi ora questo diciamo che cosa vuol dire sicuramente c'è una proporzionalità con come scaricano i neuroni non vuol dire necessariamente che un tempo fisico di tre secondi si è dilatato in tre minuti parte di questo è anche un'illusione di come tu ricordi ma di quanta memoria scarichi sull'hard disk dell'ippocampo eccetera eccetera rispetto a quell'evento saliente quindi non sappiamo ancora scientificamente se e probabilmente non sono cose mutualmente esclusive possono accadere tutte e due se è quell'attimo che si dilata in quel momento lì quindi processiamo talmente tante informazioni in quel momento è talmente stressante talmente una questione di vita e di morte che il cervello ce la mette tutte quindi impacchetta in quei secondi l'informazione che normalmente impacchetta nei minuti siccome noi viviamo dentro il cervello viviamo di segnali elettrici quello siamo il tempo si dilata e di quello fuori non ci interessa nulla o se anche come è probabile impacchetta molto ma anche ricorda molto scarica molte di queste informazioni con molto più dettaglio molta più risoluzione spaziale temporale cosa che normalmente non fa perché noi non ricordiamo tutto della vita non ci sarebbe spazio ma quello invece con una risoluzione altissima lo scarica e poi quando lo ricordi dura molto di più perché c'è molto di più da dire e da raccontare il livello di dettaglio spazio temporale soprattutto temporale è molto molto espanso quindi probabilmente ci sono tutte queste due queste due cose e queste cose c'è un substrato di questo cioè tutti questi eventi stressanti pericolosi dove si deve decidere se stare combattere o scappare sono momenti in cui i cosiddetti sistemi attivanti che sono delle sostanze tra cui la più famosa è l'adrenalina vengono proprio c'è una bomba una botta di adrenalina un cocktail di neurotrasmettitori attivanti che attivano i neuroni li rendono più eccitabili e il neurone risponde di più più a lungo quindi c'è un meccanismo fisiologico per questo ed è chiaramente qualcosa che ha una funzione evolutiva che serve a sopravvivere agire al momento considerare bene tutto tutti i dettagli della situazione tutta la checklist e soprattutto ricordarselo perché poi se ricapita è bene sapere i dettagli quindi così si espande il tempo si espande per fortuna non soltanto quando succedono queste cose drammatiche di premorte ma si espande anche in cose che sono più carine ma altrettanto importanti dal punto di vista dell'evoluzione come della specie della sopravvivenza della specie come l'accoppiamento anche diciamo il primo bacio dopo un lungo corteggiamento il momento prima del primo bacio probabilmente è un altro momento molto espanso che dura tantissimo e qui a proposito qui è una diapositiva che mi è saltata era un bacio di un film di Bollywood dove è molto carino e lì era il corteggiamento veramente sofferto e per cui quel fotogramma dura quello che dura ma quando uno bacia la persona per la prima volta insomma sicuramente si dilata e qua mi aggancio ma non è un espediente retorico perché è vero questo è stato studiato ma mi aggancio a questa bellissima aforisma non è neanche una poesia è una frase di Luigi Pirandello che vi leggo che dice anzi però prima sostituisco l'amore con la coscienza perché però Pirandello diceva l'amore e la coscienza guardò il tempo e rise perché sapeva di non averne bisogno finse di morire per un giorno e di rifiorire la sera senza leggi da rispettare si addormentò in un angolo di cuore per un tempo che non esisteva fuggì senza allontanarsi ritornò senza essere partito il tempo moriva e lui restava questa che è bellissima tra l'altro è bellissima torniamo all'originale per non fare un torto a Pirandello è una frase stupenda che riguardi l'amore che riguardi la coscienza che riguardi la nostra vita interiore è molto molto bella ed ha chiaramente questa idea di indipendenza e di come soprattutto in fondo è la nostra coscienza che il tempo lo genera se ci pensate è bella anche perché menziona da qualche parte si addormentò e quando è che il tempo si contrae più che mai ma il tempo fuori esiste per chi rimane sveglio è quando si dorme quando si addormenta di un sonno profondo senza sogni nelle prime ore della notte la prima ora e mezza tipicamente lo stadio 3 del sonno non REM e uno sveglia una persona e gli chiede allora che c'è è passato un secondo sono qui quel tempo non è esistito è completamente collassato il cervello era attivo in oro ne scaricavano ma un po' meno in modo diverso si può spiegare perché questo accade ma non è esistito nulla non sono esistiti i colori non si è esistito te stesso non è esistito l'universo gli animali nulla è esistito ma soprattutto non è esistito il tempo non c'era altro che il movimento oculare i 50 millisecondi non sono esistiti 3.600 secondi 4.000 secondi volatilizzati persi completamente il cervello evidentemente fa qualcos'altro in quella cosa lì e questo sarebbe un'altra lezione una terza se volete imitare tre volte ne fate fare anche una sul sonno però non è esistito e poi a volte sempre quando si dorme vi è mai capitato anzi a tutti di mettere la sveglia alle 7 e 0.3 poi avete il bottone che è la ritarda alle 7.06 vabbè non mi svegli adesso aspetta ancora un attimo quando ti risvegli alle 7.06 a volte hai fatto dei sogni che hanno un livello di dettaglio una lunghezza una ricchezza che non ci sta in tre minuti non ci starà mai in tre minuti hai voglia di comprimere quelle cose in tre minuti e anche lì è successo qualcosa infatti nella fase REM il cervello molto attivato da quel cocktail che vi dicevo prima produce i sogni ma i sogni anch'essi come dice qui Pirandello sono molto liberi dal punto di vista del tempo comprimono espandono succede di tutto il tempo non esiste nei sogni quasi o può esistere ma in modo molto lasso così come lo spazio tra l'altro le persone si trasformano in altre persone le luoghe in altri luoghi acriticamente tutto va bene i momenti si dilatano si espandono i minuti durano secondi i secondi possono durare minuti questo è quello che succede nel cervello e quindi questo se vogliamo è una grande libertà ma soprattutto è la dimostrazione che il tempo lo crea il cervello più che subirlo ora e qua vabbè fino adesso non abbiamo avuto a che fare più di tanto con le incombenze e la tirannia dell'ambiente che ci circonda sì ne abbiamo parlato dobbiamo reagire diamo più importanza a questo e a quello eccetera eccetera ma il cervello poverino a parte quando sogna che il mondo se lo crea se lo inventa ex novo tutto da dentro senza bisogno di essere connesso a niente poi la sua vita quella di tutti i giorni di operaio che deve sopravvivere la svolge e se la vive a contatto con un ambiente e lì come lo conosce l'ambiente il cervello qui due parole per spiegarvi qual è un altro problema che il cervello ha invece è un problema che ha col tempo e che si deve risolvere per sopravvivere questo può sognare liberamente senza nessun problema questo è un problema che si deve porre quando è sveglio e deve sopravvivere il cervello è chiuso dentro il cranio e del mondo fuori in questa volta buia e silenziosa non sa niente non lo conosce non lo conoscerà mai il mondo fuori eppure deve rispondere al mondo se vuole vivere e se vuole sognare di notte se vuole mangiare se vuole evitare predatori e così via e come lo conosce il mondo è una strada lunga ci sono intermediari messaggeri stazioni eccetera eccetera è molto molto complicato il fatto è che il mondo fuori è fatto di energie diverse è fatto di fotoni è fatto di onde di pressione è fatto di gradienti chimici è fatto di cos'altro c'è suono tatto la vista sono fotoni sto dimenticando energia meccanica qualcuno quando qualcuno ti tocca quella è energia meccanica sono tutti diversi tipi di energia il cervello non parla nessuno queste energie non le capisce non sa cosa sono c'è una sola moneta che va nel cervello sono gli impulsi elettrici quella è l'unica moneta di scambio quindi tutto questo tutto quello che me quello che fotoni che vengono da qui dallo schermo la voce la sedia più o meno comoda eccetera eccetera tutto viene tradotto nella stessa moneta corrente che sono i potenziali d'azione ovvero degli impulsi che durano circa un millisecondo che i neuroni si scambiano e sono degli impulsi elettrici e non solo questi impulsi devono essere l'energia deve essere trasdotta cioè una forma di energia meccanica elettromagnetica eccetera si deve trasformare da questa forma all'impulso ma poi deve anche viaggiare quindi questa è una bellissima immagine di Leonardo che vi dice un po' in che situazioni si trova il cervello questo è Cartesio che mette un po' in luce quanta sia lungo la strada da un eventuale recettore quindi quei sensori nella periferia che trasformano l'energia nella moneta corrente del cervello poi a quanta strada devono fare questi impulsi per arrivare al cervello quindi poverino lui ce ne vuole per conoscere il mondo e non solo ci sono tutti questi processi in atto ma questi processi prendono tempo quindi conoscere il mondo sapere cosa succede là fuori fuori dalla volta buia del cranio prende tempo facciamo l'esempio del sistema visivo per esempio allora prima di tutto i fotoni devono essere trasformati in elettricità in un potenziale d'azione e qua ci sono tanti step che devono accadere non vado nei dettagli sapete solo che il fotone incidente sulla retina deve essere trasformato in un'energia chimica quindi si trasforma in un processo chimico poi questo processo chimico facendo muovere degli ioni carichi con delle cariche elettriche attraverso la membrana diventa un potenziale elettrico lento che poi finalmente passando da cellula in cellula ci sono tre strati di cellula in retina finalmente diventa un segnale che si può trasmettere e tutto questo ci prende circa 50-60 millisecondi per fare questa trasduzione di energia poi questa cosa si trasforma nella moneta corrente com'è la moneta corrente? è questa nella borsa del cervello questo è quello che conta questo è come scarica un neurone possono scaricare più o meno forte quando arriva uno stimolo il neurone scarica così ok questo è l'unica cosa che il cervello capisce sono dei segnali che durano un millisecondo e ogni neurone ne può impacchettare nel tempo un po' questo è il segnale che viene girato qua all'inizio del nervo ottico e già quello prende tempo dopodiché si noti questo segnale viene generato sia che incida un fotone sia che uno riceve un pugno in un occhio non importa la retina è fatta quello che conta poi è che venga generato un segnale lì poi qualsiasi cosa venga generato viene interpretato come una cosa visiva anche questo è molto interessante ma questo è un altro discorso questo è quello che viene generato questo è quello che deve fare strada e la strada che qua ho disegnato schematicamente in realtà non è una strada diretta ma questo segnale si ferma in diverse stazioni non importa dove ci sono diverse stazioni dove il segnale si ferma si rigenera si perfeziona un po' e poi riparte prima di arrivare alla corteccia visiva primaria che sta qua dietro che è il luogo dove il segnale deve arrivare perché poi si generi qualcosa di visivo ma tanto per cominciare deve arrivare lì e una volta che e per arrivare lì il segnale deve propagare quindi viene generato e poi deve viaggiare questo segnale elettrico come in un cavo elettrico e se noi guardiamo dentro il cervello che succede una volta che un potenziale d'azione viene generato viene trasmesso e viaggia a una velocità si deve ripropagare si rigenera durante queste connessioni si chiamano assoni le connessioni tra un neurone e l'altro e il potenziale è un'onda elettrica che si rigenera continuamente e prende un po' di tempo per rigenerarsi e quanto ci vuole? a che velocità vanno? beh, non è la velocità della luce questo ve lo posso garantire se va bene è la velocità di una macchina lievemente sopra i limiti di velocità in autostrada diciamo che andiamo media a essere generosi facendo una media generosa sui 50 metri al secondo non è male non è male ma non è una velocità infinita è una velocità finita e quindi complessivamente dal momento in cui io espongo l'occhio a una luce a un flash al momento in cui semplicemente arriva la corteccia primaria che non vuol dire che io lo vedo ma si creano le condizioni per che io lo veda ci passano 120 millisecondi più o meno sembra poco è un decimo di secondo ma non è poco non è poco pensate che è lo stesso tempo soprattutto perché noi stiamo diventando lenti rispetto alle cose che ci circondano 120 millisecondi è il tempo che ci mette un messaggio una la mia voce attraverso un telefonino se tutto funziona bene se la linea è libera le fibre ottiche eccetera eccetera ora che va alla torre di trasmissione entra fa le fibre ottiche eccetera eccetera e va da mio parente a Napoli o in Sicilia ci mette lo stesso tempo anche meno ci può mettere quindi noi stiamo lenti il cervello ha fatto di tutto l'evoluzione ha fatto di tutto per essere il più veloce possibile a trasmettere questi segnali ma nella materia umida no? biologica queste cose comunque prendono tempo non c'è niente da fare si è impegnato questo per esempio è il cavo che trasmette la risposta vitale del calamaro si chiama sono i giganti di calamaro è molto famoso perché è stato molto studiato dai neurofisiologi c'è molto caro ma è un cavo che trasmette il segnale da una cosa minacciosa al movimento del sifone che fa scappare il calamaro il calamaro più veloce è più sopravvive è chiaro che ce l'ha messa tutta no? per sopravvivere e questa cavo cosa ha fatto la natura? la cosa più semplice è farlo crescere di diametro più il cavo è grosso intuitivamente anche in idraulica è vero più veloce più veloce trasmette e sì è arrivato a un millimetro ma più di così non poteva ed è abbastanza veloce ma se le nostre cavi interni nella scatola cranica inestensibile fossero grandi un millimetro la nostra testa sarebbe grande come questa sala infatti i nostri cavi sono molto più piccoli ma sono altrettanto veloci perché hanno la mielina cioè l'evoluzione ha detto fino a un certo punto li ha fatti crescere le dimensioni poi non ci stavano più praticamente non era pratico non era neanche economico dal punto di vista energetico e quindi ha pensato bene di mettere uno strato di grasso intorno a ciascun cavo che è quello che poi viene meno quando ci sono malattie come la sclerosi multipla per cui c'è un difetto della velocità di connessione e della tempistica della comunicazione interna del cervello quindi la mielina questo isolamento fa sì che abbiamo la stessa velocità con una cosa che ha 200 volte più piccole quindi ci può stare dentro la nostra testa e di fibre così noi ne abbiamo milioni di miliardi nella testa di fibre così e sono abbastanza veloci dicevo la natura ha fatto tutto quello che poteva ma comunque più di diciamo 100 metri al secondo per certe fibre ma non che non sono dentro sono nei nervi periferici non ce l'ha fatta per cui c'è un bel ritardo è importante o no questo ritardo per la vita ma sì è importante adesso faccio un esempio del tennis però immaginate che tutto questo si applica alla scimmia che deve scappare o a noi stessi quando dobbiamo scappare allora questo si chiama Roddick e l'ho preso perché è uno dei tennisti più veloci cioè il suo servizio andava a 250 km all'ora io non sono un esperto di tennis potrebbe essere una roba una bufala totale però l'ho trovato ho confermato ho visto anche su insomma 250 comunque si va sui 190 200 eccetera lui era più veloce facciamo questo 250 l'altro dall'altra parte no questa pallina la deve prendere e nel momento in cui la pallina incide no i fotoni della pallina incidono sulla retina dal momento in cui questo avviene quindi la pallina è effettivamente qua nel momento in cui i fotoni alla velocità della luce no incidono sulla retina il movimento della pallina è trascurabile poi però ci mette 120 120 millisecondi la pallina a essere un'informazione pallina tradotta nella moneta del cervello cioè negli impulsi elettrici ad arrivare qua dietro e dove è in 120 millisecondi una pallina che va a 250 km all'ora lì la prendi? no non è difficile che la prendi è impossibile quasi prenderla ok sono tempi rilevanti rispetto a quello che succede fuori sono ritardi importanti che penalizzano la nostra capacità di fare detezioni accurate di quello che succede fuori e di sopravvivere come si fa? si fa che in realtà ci sono delle altre strutture dentro di noi che sono molto veloci più veloci della corteccia cerebrale non hanno il dono della coscienza non sanno niente non vedono niente sono degli zombie ma fanno dei calcoli li fanno bene e questo per esempio è il cervelletto il cervelletto è una macchina predittiva è un congegno fantastico che impara le leggi della natura se le scrive dentro e già sa come va a finire il moto la legge di Newton il cervelletto la sa la pallina lanciata a quella velocità con quell'inclinazione della racchetta eccetera eccetera sarà lì non lo vedi è il cervelletto che ti dice vista com'è adesso lo stato iniziale x y z risolve l'equazione e ti dice è molto probabile che te la ritrovi lì e quindi ti fa fare già quel movimento ma tu non lo sai chi prende la pallina non ha non era conscio di quel movimento lì è conscio che vuole battere l'avversario che probabilmente l'avversario va in mente di fare quella cosa eccetera eccetera ma quella pallina l'ha presa il cervelletto come spesso succede nella vita fa tante cose il cervelletto poi ci torniamo su questo argomento non a caso sono l'ottanta per cento delle cellule che abbiamo in testa ottanta miliardi su cento miliardi sono lì dentro è un super computer che predice volete una dimostrazione? allora questo è un esperimento interessante è un'altra bella illusione temporale allora quello che vedrete qua sono praticamente due cubetti uno sta fermo e lampeggia l'altro dietro si muove e questo lampeggia allora in realtà sparisce e compare il cubetto davanti compare solamente quando quello dietro è perfettamente allineato perfettamente allineato nello spazio adesso è più semplice se lo vedete quindi due cubetti uno si muove quello dietro e questo è stazionario ma si accende solo quando quello dietro è perfettamente allineato quindi tutte le volte che vedete i cubetti sono perfettamente allineati guardate bene non vi sembra che quello che si muove sia sempre un po' oltre quell'altro quando compaiono insieme? nettamente ma non è mai così loro in ogni momento sono così quando compaiono insieme sono così ma voi vedete che quello dietro è sempre un po' oltre perché? perché il cervelletto vi fa questo scherzo ma anche questo regalo di sapere siccome lui sa visto il moto lineare continuo facilissimo per il cervelletto è una cosa facilissima questa la fa in 60 millisecondi questa cosa lui sa che sarà lì e quindi ve la fa vedere lì dove sarà non dove non è non dove è non vi fa vedere il presente vi fa vedere il futuro ok? e questo succede spessissimo quando ci sono dei moti prevedibili noi non vediamo il presente date le condizioni iniziali vediamo il futuro e ci viene regalato questo futuro da queste macchine che abbiamo dentro velocissime inconsce che però ci fanno questo dono di anticipare le cose per noi perché se no noi saremo molto lenti vi ha convinto questa cosa? è vero no? volete rivederla? dai è così è così va bene questo serve ovviamente ma non l'ho inventata io questa illusione però serve ci serve ma non siamo noi a farlo è qualcun altro dentro di noi che lo fa noi ospitiamo tante creature dentro di noi cieche e sorde ma molto servizievoli adesso qui cambiano le cose provate a prendere una mosca lì le cose si può prendere ma diventa molto più difficile perché? perché il cervelletto quando voi cercate di prendere una mosca anche se la mosca va a 8 km all'ora non a 250 km all'ora come la pallina non ha un moto newtoniano prevedibile lineare che puoi mettere un'equazione di un qualche tipo neurale scritta nei neuroni e per dire la mosca va per i fatti suoi è imprevedibile e quindi è molto più difficile da prendere e quindi qua invece fallisce il sistema automatico ok? quindi non va bene sempre va bene quando ci sono cose semplici come una pallina da tennis prevedibili con delle leggi sotto che sono comunque diciamo deterministiche quando le cose si fanno o più complicate perché dovete prendere in considerazione più cose contemporaneamente o imprevedibili il sistema non funziona infatti non basta essere velocissimi però sappiate poi ci torniamo che dentro di noi ci sono delle macchine non è solo il cervelletto anche parte della corteccia cerebrale si comportano così sono più veloci ma mute sorde cieche incoscienti anche parte dei nuclei della base sono fatti così e quindi questo è un altro fatto da tenere presente delle nostre relazioni col tempo guardiamo nel futuro agiamo sul futuro pagando il prezzo siamo veloci pagando il prezzo di non esserci però sopravviviamo e vale la pena perché poi possiamo esserci dopo e sognare quando andiamo a dormire vivi ora c'è un altro problema abbiamo visto il problema del ritardo che viene compensato così ma dicevo questo vale e funziona per cose semplici in realtà poi il cervello nel suo impero dei sensi deve mettere insieme tante cose e le cose visive non hanno senso se non sono insieme a quelle sensoriali uditive eccetera il modello che ci facciamo del mondo la comprensione che ci facciamo del mondo dipende da un'integrazione tra tutti i sensi e questa noi dobbiamo avere un'idea di ciò che accade simultaneamente in tutto questo impero sensoriale e qua il cervello ha un grosso problema che è un po' lo stesso problema che aveva Kubilai Khan quando era a capo del più grande impero mai esistito sul pianeta e lui nel tredicesimo secolo che era un po' decentrato stava a Pechino doveva controllare un impero che manco conosceva bene enorme e doveva farsi un'idea di quello che c'era quello che succedeva in ogni dato in un dato momento un'idea del presente di quell'impero e lui mandava emissari uno di questi era Marco Polo bravissimo ma questi tornavano no fotografavano la situazione poi tornavano e ognuno tornava alla sua velocità perché alcuni facevano più strada altri meno altri si ammalavano durante il tragitto altri si fermavano c'era una guerra c'era maltempo e così via per cui un'idea di come stavano le cose non poteva averla all'istante doveva aspettare e doveva mettere informazioni che arrivavano insieme con ritardi di cose accadute nello stesso momento una guerra una carestia cose che erano importanti strategicamente mettere insieme ma doveva aspettare che arrivassero per farsi un quadro e per predisporre una risposta sensata il cervello ha lo stesso identico problema perché abbiamo visto che le cose arrivano con ritardo abbiamo visto il visivo ma non vi ho detto che ogni modalità sensoriale e ogni sottomodalità sensoriale visivo uditivo eccetera ha il suo ritardo nelle infinite strade del cervello questa è un'immagine dove vedete alcune delle fibre del cervello una nuova tecnica che si chiama non importa comunque si possono vedere da fuori si chiama diffusion tensor imaging ma da fuori con una scan mettendo una persona in risonanza magnetica si vedono tutte le fibre più grosse vi dà un'idea di come sono le strade dell'impero che portano i sensi al cervello e sono alcune lunghe alcune corte alcune tortuose più o meno eccetera e da qua queste sono le strade che percorrono i sensi l'udito l'olfatto la vista il tatto della mano del piede e qua i segnali sono di diversa natura abbiamo visto la retina che ci mette 60 millisecondi l'orecchio è molto più veloce a trasformare un'onda di pressione in un segnale elettrico un procedimento molto più semplice ancora più semplice per il tattile una semplice pressione sulla mano praticamente stira il nervo il nervo apre dei buchini perché si è stirato entrano delle cariche elettriche più o meno parte un segnale è molto più facile e quindi ci sono tempi molto molto diversi e poi ci sono il fatto che alcune delle fibre che abbiamo dentro sono amieliniche come quelle del calamaro piccole e lente altre invece sono mieliniche per cui non solo il tipo di messaggio il messaggero è più o meno bravo a trascrivere quello che succede ma poi le strade sono molto molto diverse alcune sono lente tortuose altre sono veloci alcune sono corte altre sono lunghe fatto sta che la velocità di conduzione varia da circa da 0,3 metri al secondo a 100 metri al secondo più o meno quindi è due ordini di grandezza di differenza anzi di più e quindi per esempio abbiamo visto un impulso visivo arriva dalla retina alla corteccia in 120 millisecondi un uditivo in 50 millisecondi ma queste sono cose che sono successe simultaneamente fuori se io faccio così contemporaneamente do un flash o accendo l'accendino se il rumore dell'accendino è una fiamma vicino alla testa la velocità della luce e quella del suono sono trascurabilmente diverse su queste distanze ma dentro una arriva dopo 120 millisecondi l'altra arriva dopo 50 ma sono successe allo stesso tempo fuori e noi le percepiamo come sincroni un input sensoriale alla mano se faccio così ci mette 20 secondi 100 secondi di meno se arriva dalla gamba ci mette un po' di più perché il tragitto è più lungo eppure se io stimolo come dicevo prima do uno stimolo visivo e uno acustico simultaneamente voi li percepite come simultanei o no? almeno c'è questa illusione la stessa cosa se io tocco la punta del piede e la punta della mano contemporaneamente ci sono 25 millisecondi di differenza ma non li sentite eppure il cervello è bravo a sentire le differenze di tempo quando vuole ma non lo sentite non ve ne accorgete se io stimolo tutto contemporaneamente anche quello sarà un evento sincrono quindi il cervello si crea un modello anche se gli arrivano dentro cose che sono completamente asincrone siccome ha capito impara che quelle cose sono statisticamente occorrono insieme si fa un modello per raccoglierle tutte insieme cioè aspetta per raccogliere presente un presente che però non esiste più il prezzo da pagare per mettere per correggere questa differenza questi ritardi inevitabili dei messaggeri è quello che poi presente non esiste più le cose sono ancora più complicate perché anche dentro una modalità quella visiva quando vedete questa scena voi la vedete così immaginate che sia un calciatore in movimento che calcia la palla la vedete così senza dubbio ma in realtà prima è stato elaborato ed è arrivato il colore poi è arrivato il movimento è solo alla fine la forma che è la cosa più complicata ma voi non avete coscienza di questo è un tutt'uno è tutto impacchettato è anche il suono della palla che viene colpita è sincrono è tutto sincrono è un trucco ma non lo è in realtà nei neuroni l'unico linguaggio che il cervello capisce non lo è cosa fa il cervello? beh questa è una cosa che è ancora oggetto di ricerca ma c'è un'ottima strada è un'ipotesi che è molto probabilmente vera che è quella che appunto il cervello aspetta il cervello non vive l'istante l'adesso è un'illusione non esiste adesso il cervello aspetta un centinaio di millisecondi per dare spazio ai ritardi ai diversi messaggeri e poi mette insieme le cose che sia visivo il colore il movimento la forma qualcuno che ti tocca o un suono ciò che accade in cento millisecondi viene impacchettato insieme quindi noi non viviamo il presente attenzione viviamo degli intervalli che vengono accorpati insieme però ci facciamo un modello del mondo che è buono nonostante i ritardi della materia biologica che è umida è un po' imprecisa ci sono tanti esperimenti per dimostrare questo David Hegelman è un giovane ricercatore brillante californiano che ha proposto questa cosa che ha molto senso ma questa cosa era già stata in realtà se si guarda indietro scoperta da quelli che dai tecnici che si occupavano di telecomunicazione quando è nata la televisione perché quando è nata la televisione c'era il problema enorme tecnico come il problema audio video che abbiamo avuto prima qua ma che abbiamo brillantemente risolto però avevano il problema tecnico di avevano la paura a priori che non ce la faremo mai a trasmettere il video e il suono sincroni è troppo difficile ci sono troppe variabili nella televisione nell'antenna che trasmette in tutto non ce la faremo mai e non sarà mai sincrono non sarà mai una buona qualità l'esperienza audiovisiva se non che poi hanno provato hanno fatto 2000 teorie calcoli cercato di ottimizzare poi hanno provato e hanno visto che al cervello del telespettatore entro certi limiti non gliene fregava niente per cui cosa hanno scoperto che a patto che l'audio e il video arrivino entro 100 millisecondi abbiano uno sfasamento un ritardo non importa chi segue chi precede di 100 millisecondi noi lo percepiamo come sincrono e ci va bene così ve lo dimostro allora adesso vi faccio vedere uno sfasamento tra però non vedete purtroppo non vedrete il labiale di Obama che parla ho messo Obama perché è così per nostalgia perché insomma chi vede il labiale ma dubito che lo vedete voi forse lo riuscite a vedere non è soddisfacente non è una buona trasmissione questo no è infatti 180 millisecondi di ritardo adesso facciamo un piccolo 80 millisecondi però non sono pochi 80 millisecondi lo stesso viso video sfasato di 80 vi assicuro che se lo vedete non ve ne accorgete adesso considerate che nonostante i potenti mezzi qua comunque c'è un filo che deve andare lì però questo è accettabile questo noi lo consideriamo sincrono e ci va bene non ci disturba l'altro no ma è una distanza comunque trascurabile se si esce da quella finestra non ce la fa più perché c'è questa finestra non è una finestra assoluta diciamo che 100 millisecondi sì è una buona indicazione vale per il visivo vale per l'audiovisivo eccetera non è detta che valga per tutti i sensi ma è una finestra intorno a quella grandezza che sono le gli intervalli del presente ammesso che il presente esista perché a questo punto non esiste più il presente sono gli intervalli a cui il cervello fa un compromesso non devono essere troppo lunghi perché sarebbe tutto troppo lento non possono essere troppo corto perché cose che sono in realtà sincroni nel mondo è importante sapere che sono sincroni perché tutto ciò che ci facciamo l'idea del mondo di causa e effetto che ci facciamo si basa sulla tempistica quindi le cose sincroni dobbiamo saperle associare è fondamentale fa un compromesso e questo compromesso lo trova intorno a 100 millisecondi e se uno va a registrare l'attività cerebrale abbiamo sempre fatto un salto nei neuroni in tutti gli esempi che vi faccio il ritmo dominante del sistema visivo per esempio non a caso è il ritmo alfa cioè l'elettronicelefoilogramma che riflette come milioni di neuroni si accendono e si spengono ha un periodo di 10 cicli al secondo un'oscillazione con 10 cicli al secondo cosa vuol dire 10 cicli al secondo? che ogni ciclo dura 100 millisecondi e quindi molti ricercatori con successo si sono messi a cercare di capire se questo è il campionamento diciamo è la scansione il clock con cui noi campioniamo il presente che non è più presente ma un po' passato e un po' futuro e lo mettiamo tutto insieme e qui andando indietro c'era qualcuno che si era già posto il problema il presente esiste non esiste il presente è un'espansione della coscienza che lo crea lo espande e lo fa a sua misura come gli serve ok? ok allora adesso chiudo con la cosa più clamorosa perché però qua torno un pochettino perifericamente anche nel mio un po' più a mio agio perché si parla un po' più di coscienza ma non nel modo in cui ne parlo di solito potrei cadere miseramente proprio qua però qui c'è un fatto incredibile nel senso che per adesso abbiamo visto cose o prendere la parina da tennis abbastanza qualcosa di semplice automatico che avviene all'oscuro di noi sotto il radar della coscienza non ce ne accorgiamo sì lo facciamo ci accorgiamo dopo che l'abbiamo fatto che hai fatto il punto ma mentre lo fai non sei tu che lo fai poi una cosa abbastanza di basso livello che è come fa il cervello come Kubilai Khan a perdonare gli emissari che arrivano tardi e ad avere una sincronicità no? ad allocare la sincronia nonostante la sua mancanza di sincronia interna la sincronia del mondo e poi c'è l'altro mistero perché dentro il cervello c'è qualcuno che vede che sente che il tempo lo sente che vede che c'è no? e questo è il mistero e quanto ci vuole da che una cosa accada cioè che viene applicato uno stimolo a che io lo senta consciamente io posso rispondere anche in 120 millisecondi allo stimolo ma non sono io i tempi di reazione quando si fanno i giochini elettronici o quando si gioca a tennis o quando si risponde a un flash e si fa così o quando si frena in macchina quando la macchina davanti a te frena sono 120-150 millisecondi lo starter di una gara di corsa anche lì 120-150 millisecondi ma non siamo noi noi siamo coscienti dopo di quello dopo che è successo ma non abbiamo fatto a noi quella risposta quindi non sono i tempi della coscienza sono i tempi del cervelletto incosciente che ci fa fare le cose come degli automi ce le fa fare bene e veloci ma per essere coscienti i tempi sono molto molto più lunghi e questo è stato scoperto da Benjamin Libet negli anni 60 che era uno scienziato un neurofisiologo che si è messo a fare degli esperimenti molto interessanti e che ha scoperto quanto arriviamo tardi sul mondo quando siamo coscienti lui ha fatto così aveva dei soggetti registrava l'attività cerebrale con degli elettrodi quindi i neuroni poi metteva i soggetti davanti a un orologio che girava un oscilloscopio in cui c'era una pallina che girava di fianco a dei numeri no? poi lui dava uno stimolo al soggetto stimolo tattile elettrico e registrava come rispondevano popolazioni di neuroni e questo è quello che regista si chiama potenziale vocato cioè è l'attività elettrica registrata dopo che arriva uno stimolo al cervello quindi si ha un'iniziale attivazione dei neuroni dopo 20 millisecondi perché uno stimolo si stimola la mano ci mette tot arrivare alla corteccia poi si inizia a registrare un segnale che questo segnale riflette i neuroni che si accendono si spengono non importa è l'attività dei neuroni quello che conta è che Libet ha chiesto per la prima volta a un soggetto e l'idea di questo esperimento gli è venuto in sogno interessante perché diceva ma io come faccio io voglio sapere quando loro diventano coscienti sì vedo questa attività dei neuroni ma quando questa attività dei neuroni diventa coscienza come faccio se glielo chiedo ora che me lo dicono sono passati due secondi e poi gli è venuto in mente ah vi far girare questa pallina e il soggetto quando sentiva lo stimolo guardava semplicemente dove era la pallina rispetto ai numeri quindi la pallina era una specie di cronometro che girava molto veloce sulla scala dei decine di millisecondi e il soggetto gli diceva ah ero cosciente quando il coso era facciamo qui quindi lui sapeva come si attivavano i neuroni la tempistica da 0 a 500 millisecondi e poi sapeva da 0 a 500 millisecondi quando il soggetto aveva sentito la cosa sorpresa i neuroni si attivano a 20 millisecondi i soggetti diventavano coscienti a 450 500 millisecondi è un ritardo mostruoso potrebbe essere anche 300 a seconda di moneta negli esperimenti Libet era 450 sono diverse centinaia di millisecondi ma il cervello è iniziato prima ben prima a elaborare queste cose ok c'è la finestra di 100 millisecondi di quel ritardo che ci concediamo per far sì che tutto arrivi no per cui magari si può dire che partiamo da lì a elaborare le cose ma comunque sono 300 millisecondi di ritardo è un'infinità è un tempo lunghissimo siamo sempre in ritardo consciamente tutto succede prima nel mondo e noi siamo consci solo dopo questo primo esperimento abbastanza interessante l'altro per cui lui è diventato famoso che ha fatto ancora più scalpore è sul versante opposto ha chiesto ai soggetti di schiacciare un bottone quando volevano ha detto quando volete schiacciate il bottone fatelo con una certa regolarità ma quando volete i soggetti schiacciavano e ha registrato l'attività cerebrale mentre i soggetti prima che schiacciassero il bottone e dopo cosa succede? prima che si schiacci il bottone secondo me il cervello si prepara all'atto motorio coordina l'atto motorio deve sapere dove è il bottone eccetera c'è un'attività neurale che nasce prima che si schiacci il bottone questa attività che si chiama potenziali di preparazione inizia circa 500 millisecondi prima del movimento quindi prima che noi schiacciamo il bottone i neuroni sono mossi 500 millisecondi prima fin qua va bene sono sempre tempi lunghi ma va bene con lo stesso sistema gli ha chiesto ma quando eravate coscienti di muovervi? quando avete deciso di muovervi? quindi avete consciamente e la sorpresa è stata che i soggetti dicevano qua quindi il cervello si è mosso prima e poi voi dopo avete deciso e quindi chi è deciso? e questa cosa dei tempi ha messo in crisi tutti filosofi avvocati e libero arbitrio chi è deciso? non sono stato io era già partito tutto prima io l'ho saputo dopo sono testimone del fatto che qualcuno ha deciso di schiacciare il bottone o di uccidere qualcuno ma non sono io la gente no? problema enorme scantato dal bia adesso non voglio aprire questo filone solamente per dire che però se c'è qualcosa deterministico che parte prima e io solo dopo lo vengo a sapere e quella cosa è un'azione specifica è un problema enorme ma lasciamo stare questo sia sul versante di quando sentiamo qualcosa consciamente che di quando decidiamo qualcosa ci sono sempre di mezzo questi 300 millisecondi cosa sono? perché ci vuole così tanto tempo per essere per esistere rispetto a delle perché? è il tempo dell'essere dell'esistere in cui affiora qualcosa all'esistenza quella vera poi perché quello che esiste esiste perché noi ci siamo a guardarlo se no cosa sarebbe? sarebbe la solita foresta in cui gli alberi non fanno rumore manco ci sono manco esistono per cui cos'è questo tempo? da dove vengono? allora Libet si era spiegato dicendo beh c'è un tempo neurale per cui se i neuroni sono attivi un tot magicamente c'è la coscienza se sono attivi di meno è tutto sotto la soglia è sotto il radar della coscienza però è un po' una spiegazione magica l'esperimento è ottimo ma l'interpretazione un po' così così adesso che le idee sulla coscienza sono un po' avanzate sappiamo che questi sono i tempi per cui il cervello o meglio di una parte del cervello la corteccia cerebrale che è quella che è imprescindibile per la coscienza evidentemente necessaria e sufficiente lavori come un tutt'uno bisogna dargli tempo perché i neuroni si connettano di fatto scambiandosi segnali talmente forti da costituire un'unità e questa è la forza del cervello ed è la caratteristica fondamentale della coscienza la nostra coscienza non entro in questo cosmo ma voglio solo dirvi questo per capire quello che vi dico dopo quando siamo coscienti noi abbiamo in ogni ogni attimo di coscienza è estremamente ricco e completamente unitario è unitario perché la coscienza non si può dividere non si può dividere la destra la sinistra i colori dalle forme eccetera è un tutt'uno ed è anche estremamente ricca non solo perché io adesso vedo una scena ricca con tante cose anticolori ma qualsiasi esperienza anche puro buio è estremamente ricca di informazione perché non è rosso non è blu non è pioggia non è colore non è suono non è un viso e quindi è tutto il cervello che partecipa anche a definire il buio per quello che non è se no il buio non sarebbe niente non avrebbe significato e quindi per essere coscienti tutto la corteccia cerebrale deve agire come un tutt'uno e questo prende tempo perché vuol dire che i neuroni devono comunicare tra loro e ne prende tanto non è che una cosa deve arrivare da qua a qua ma le cose devono andare avanti indietro unirsi devono formare un nucleo forte di interazioni inscindibile e la proprietà del cervello con le sue connessioni e questa attività che lo unisce è proprio quella ciò che rende unico il cervello rispetto a tutti gli altri oggetti del mondo questa cosa poi è stata ben dimostrata anche sperimentalmente vado veloce qua perché sono esperimenti un po' noiosi ma questo ve lo voglio far vedere se io faccio vedere un volto molto rumoroso un'immagine molto rumorosa a volte lo vedete a volte non lo vedete e si può registrare l'attività cerebrale quando il soggetto dice ah l'ho visto ho riconosciuto un volto e quando invece soggettivamente non ha visto niente anche se lo stimolo fisico è sempre lo stesso cosa succede nel cervello se misuriamo come i neuroni parlano tra loro e non vi dico come si fa si registra l'attività elettrica e quando si assume che quando i neuroni vanno insieme fanno le stesse cose elettricamente si stanno parlando quindi si può misurare questo tipo di dialogo le frecce adesso questi qui sono i diversi punti da cui registriamo l'attività dei neuroni e le linee indicano i neuroni che si stanno parlando allora c'è un tempo in cui da 0 a 180 mili secondi nessuno si parla di quella faccia perché non c'è niente da mettere insieme no? allora vi ricordo questa è la linea in cui la faccia viene vista e qua è il caso in cui non viene vista all'inizio non cambia niente che la si veda o non la si veda arriva qualcosa arrivano degli input eccetera c'è un minimo di dialogo all'interno poi improvvisamente solo e solo nel caso in cui la faccia viene vista i neuroni parlano mostruosamente e poi dopo questo dialogo si dissipa ma c'è un attimo 350 500 millisecondi dopo lo stimolo faccia in cui il cervello agisce come un tutt'uno e tutto viene messo insieme cosa? evidentemente le diverse caratteristiche occhi lineamenti colore se parla eccetera eccetera che costituiscono l'esperienza di vedere qualcuno qualcuno che parla o una faccia semplicemente quindi il cervello mette insieme e questo per mettere insieme ci mette tempo perché i neuroni per parlare tra di loro ci mettono tempo per stabilire connessioni e quindi questo non è tanto il tempo dell'attività dei neuroni ma il tempo del loro dialogo e sono sempre 300 millisecondi sperimentalmente quindi quello che succede quando un neurone si attiva perché questo neurone dica qualcosa a un altro neurone se io lo misuro dopo 20 millisecondi non ha fatto niente al limite sarà arrivato un impulso all'altro neurone l'altro neurone ci mette altri 50 millisecondi per rispondere per attivarsi per generare un impulso che poi va e va avanti in una catena e quindi si allarga questo nucleo si allarga sempre di più si allarga si allarga ma prende tempo finché il cervello non è un tutt'uno e perché il cervello si comporti come un tutt'uno elettricamente ci vuole tempo e questo è il tempo dell'integrazione dell'informazione che è il tempo alla fine della coscienza quindi questo si spiega così noi abbiamo fatto degli esperimenti che infilo qua dentro perché sono rilevanti a questo ci siamo chiesti quanto ci mette il cervello a dialogare al suo interno la domanda era non era sul tempo però ci abbiamo detto ma come come nasce un dialogo all'interno per misurarlo abbiamo stimolato con lo stimolo magnetico da fuori un gruppo di neuroni e poi abbiamo misurato con dei sensori che registrano l'attività elettrica quanto ci mette questo stimolo a propagare quindi praticamente stimolavamo la corteccia cerebrale quella che è importante per avere esperienza cosciente quanto ci mette a diventare un tutt'uno a dialogare in modo esteso eccetera eccetera sperimentalmente guardate solo questo filmino succede questo che noi diamo questo colpo al cervello questi sono i millisecondi che corrono e vedete che ora che l'impulso giri e più o meno viaggi attraverso tutte le diverse aree del cervello per cui diventa un tutt'uno globale perché i neuroni distanti iniziano a parlare a dialogare a rimbalzarsi in informazioni ci vuole tempo e ci vogliono circa 300 millisecondi quando uno dorme quando il mondo non esiste niente esiste nel tempo nello spazio eccetera la cosa è molto più breve ed è molto più locale quindi si modularizza tutto e dura poco l'impatto della cosa per cui c'è dura circa 150 160 millisecondi e poi finisce tutto lì quindi quel tempo che noi siamo in ritardo è il tempo per guadagnare l'unità dentro l'orchestra del cervello l'unità che è tutto perché noi ci siamo quando il cervello si disfa quando si perde coscienza succede che o si perde l'unità perché i neuroni parlano in modo diverso come quando ci addormentiamo o si perde perché c'è una lesione che rompe le connessioni e quello è lo stato vegetativo ma l'unità è la cosa più preziosa per la coscienza perché noi esistiamo e l'unità prende tempo e questo è un tempo che è un prezzo questo ritardo che si paga volentieri allora chiudo e quindi c'è questo compromesso tra esserci ma essere lenti non esserci essere velocissimi è un paradosso per essere veloci bisogna rinunciare a esistere e per esistere bisogna accettare di essere lenti e dentro di noi infatti sia per essere che per sopravvivere abbiamo diversi sistemi li ho già menzionati il cervelletto il cervelletto è una macchina fantastica che gioca a tennis suona al pianoforte perché voi inizialmente imparate quando imparate suona al pianoforte siete lenti penosamente lenti pensate a ogni cosa siete lì siete coscienti lo fate col cervello unitario con la corteccia cerebrale che lo fa consciamente con tutto il peso di questa integrazione lenta quando poi avete imparato avete trasferito tutti i modelli e le equazioni del cervelletto il cervelletto suona da solo e voi siete liberi di pensare a come interpretare il brano eccetera e la volta che provate a interferire consciamente sbagliate o siete molto più lenti no? quando si guida la stessa cosa io posso andare da qua a Napoli e chiedermi mi è capitato mille volte parlare con una persona ascoltare la radio e poi arrivo e dico ma chi è che ha guidato? cioè chi è che ha tenuto le distanze laterali questione di millisecondi chi ha frenato quando il camion frenava chi ha fatto tutto questo? non io qualcun altro molto più bravo molto più veloce di me e siccome lo fa lui non devo farlo io però c'è una differenza questo bravissimo zombie è uno zombie perché non esiste infatti il cervelletto io lo posso togliere e sono vi ricordo 80% di neuroni che abbiamo in testa buttare via lo fanno i neurochirurghi quando ci sono tumori o lesioni cerebellari e non cambia niente alla coscienza sei impacciato devi pensare a tutto quello che fai sei lento l'acqua prendere un bicchiere diventa un problema stringere la mano una persona diventa un problema ma esisti se invece viene leso quest'altra parte la corteccia non esisti più coma stato vegetativo quindi c'è sempre questo bilancio e su questo bilancio voglio chiudere ah oltretutto perché il cervelletto si può permettere di essere così? perché il cervelletto non è un tutt'uno il cervelletto se lo guardate come è fatto è una collezione di circuiti input-output molto veloci è una calcolatrice con tanti circuitini e quindi non ha bisogno di integrare non si devono parlare tra di loro questi circuiti ognuno riceve un input e butta fuori un output nel giro di 20-25 millisecondi e ognuno fa il suo mestiere preciso veloce ottimo tutto ottimizzato è un computer dentro la testa e questo no la corteccia è tutt'altro tutto è connesso con tutto prima o poi e funziona solo bene per la coscienza quando tutto è connesso con tutto e questo è pesante dal punto di vista del tempo quindi adesso facciamo un grafico strano un po' così ontologico filosofico dove c'è sull'ordinata la coscienza e sulla scissa la velocità allora già noi dentro il cranio abbiamo fatto abbiamo creature diverse ne abbiamo una la corteccia cerebrale che è molto cosciente ma relativamente lenta non è male però è abbastanza lenta poi ne abbiamo uno che è decisamente più veloce risponde in 100-120 millisecondi però non esiste lo puoi togliere non cambia niente non c'è nessun senso di colpa rispetto a un cervelletto uno può uccidere un cervelletto non è un omicidio una corteccia cerebrale è un'altra cosa e poi e questo è il quadro biologico almeno dentro di noi ma noi facciamo artefatti continuiamo a creare artefatti e cosa creiamo creiamo cose sempre più veloci che funzionano bene che ci aiutano dei cervelletti fuori il primo è questo con nostalgia il primo computer che ho avuto a casa è stato un Apple 2 che era così era relativamente lento ma era già veloce e c'è una legge che si chiama legge di Moore che è quello che ha fatto il chip dell'Intel il co fondatore dell'Intel che ci ha visto lungo già negli anni 60 ha detto ogni due anni la capacità di mettere transistor su un chip raddoppia e più transistor ci sono più è veloce il chip quindi la velocità di un chip raddoppia ogni due anni e quindi la crescita della velocità di calcolo di queste macchine esterne che stiamo creando è esponenziale e aveva ragione fino adesso questa è una scala logaritmica numero di transistor data di introduzione fino al 2008 la sua previsione ma anche oltre la sua previsione è stata molto molto precisa quindi stiamo creando macchine sempre più veloci fuori di noi questo è Watson il computer che ha battuto tutti al gioco americano a rischi a tutto americano si chiamava Geopardy ha vinto la gente si è anche affezionata a Watson perché era bravissimo rispondeva bene e ha vinto non perché era cosciente Watson non era cosciente come l'Apple 2 come il cervelletto Watson è tutti i circuiti in parallelo o meglio roba che non non è un tutt'uno se lo andiamo a analizzare dal punto di vista dell'informazione integrata eppure era velocissimo velocissimo e la velocità era il suo segreto perché tu consciamente giocatore come si chiama partecipante dovevi si mettevi in gioco tutto univi tiravi fuori dalla memoria eccetera eccetera lui aveva semplicemente una tavola dove velocissimamente andava attraverso tutte le possibilità e tirava fuori la più probabile come fa Google quando gli dite una cosa Google non è cosciente Google non sa quello che vi dice è solo veloce vi dà l'illusione di avere accesso a tutto contemporaneamente ma non è così accesso a una cosa alla volta in modo segregato del tutto non integrato in unitario semplicemente lo fa velocissimo noi siamo abituati a riconoscere in questo la coscienza ma non è questa coscienza è semplicemente la velocità ed è cieca cieca velocità come era cieco Watson e adesso c'è questo Tianhe 2 che vuol dire via Lattea 2 il computer più veloce del mondo è cinese e gigante questo è tra uno di questi banchi e un altro c'è un corridoio sembra Al di Odissea 2001 nello spazio un po' è velocissimo 30 petaflop 30 miliardi di milioni di operazioni al secondo e cresceranno già si parla di quello da 60 per cui viviamo in un mondo in cui creiamo cose molto più veloci di noi sempre più veloci ma noi siamo lenti e ci sono due problemi secondo me qua per cui dobbiamo valorizzare un po' il nostro cervello i suoi limiti la sua lentezza la velocità di conduzione eccetera uno che queste macchine con cui interagiamo ci costringono a essere veloci nella vita quotidiana nella giornata quando facciamo i giochini elettronici quando i nostri bambini giocano con l'ipad con il telefonino quando noi aspettiamo avete per presente quanta frustrazione impazienza malsana ci viene quando la connessione a internet è lenta cioè ci sembra di impazzire ma è lenta di quanto sarà lenta di 200 milisecondi un secondo e vabbè però già è una cosa perché siamo ormai su questo ritmo qui e siamo diciamo utilizzando sempre di più quel cervello che abbiamo dentro di noi quella parte di neuroni che sono veloci ma che sono meno andanno meno significato alle cose che sono quelli più ciechi più incoscienti ma ci forza questa realtà che ci stiamo creando intorno e c'è sempre meno tempo per integrare e poi c'è un altro rischio molto più concreto secondo me che dovremo affrontare secondo me tra 30 o 40 anni che queste macchine siccome sono veloci sono anche più furbe le soluzioni le trovano le trovano al meteo quando fanno le previsioni meteo sono brave a predire altro che il cervelletto sanno benissimo dove le cose saranno le usiamo per quello le usiamo per predire le cose e quindi ci potrebbero anche fregare ma se vincono loro vince la velocità perde la coscienza e non c'è più niente perché se non c'è nessuno che sente l'albero che cade che sente il tempo che scorre non c'è più niente colori forme niente quindi bisogna stare secondo me attenti e valorizzare un po' la lentezza del nostro cervello e i tempi un po' più lenti allora a me non piacciono gli slogan però volevo finire con questa cosa che mi divertiva esiste slow food io propongo slow brain l'icona l'ho fatta io la brevetto grazie grazie mille è stato affascinante è passato in poco tempo vero? il tempo si è compresso indubbiamente vediamo adesso di lasciare un po' di spazio alle domande anche qua invece cerchiamo di compriverlo non ho il tempo perché approfittiamo di averlo qua segnalate alzando la mano in modo che col microfono facciamo le domande prego c'è un tempo di reazione mille secondi mille secondi buonasera prego parli forte grazie una nozione che è un po' strana è che l'oscoo quando siamo bambini la nozione di tempo sembra molto diversa da quando siamo adulti è dovuta al discorso di connessione che è molto più massiccio che è ancora diciamo diviso da dove viene questa sensazione che abbiamo penso che tutti esseri umani hanno avuto quello che per esempio un oro di scuola quando abbiamo 6-7 anni siamo una cosa estremamente lunga quando poi siamo adulti una giornata passi in 10 secondi è verissima è verissima questa cosa è stata anche descritta è l'audible effect il pesciolino allora per il bambino tutto è nuovo c'è un sacco di plasticità c'è un sacco di immagazzinamento di informazione perché tutto è più nuovo ahimè più diciamo più la vita va avanti più le cose si ripetono un pochettino questo è quello che si dice perlomeno come si cerca di spiegare questo fatto quindi è vero che il tempo si dilata da bambini e poi scorre sempre più veloce questo è quello di cui inizio a lamentarmi anch'io di questa cosa vuol dire che e e perché le cose diventano più ripetitive quando le cose sono più ripetitive il cervello ci dedica meno energia meno scarica meno neuroni meno memoria e tutto si si comprime passa più veloce perché c'è meno roba dentro è meno denso quindi questo potrebbe essere una spiegazione non è una spiegazione scientifica ma è una spiegazione a buon senso ed è quella corrente di questo fenomeno che è abbastanza noto grazie prego altre domande buonasera mi scusi e la dimenticanza quando io mi dimentico qualche cosa che cosa succede perché avviene qui diciamo ci sono diverse possibilità non ha diciamo più lei dimentica in un certo senso per come abbiamo visto funzionare le cose riconduco la cosa al tempo più tutto ancora si contrae lei mi chiede perché io a volte dimentico qualcosa lo chiedo anch'io su di me ci sono diversi meccanismi a volte non si alloca abbastanza attenzione a volte c'è una sovrapposizione di altre cose che concorrono e competono con quello che lei avrebbe dovuto sedimentare a volte è lo stress che impedisce di se c'è troppo cortisolo per esempio quando uno è stressato è facile che dimentichi le cose eccetera ci sono mille ragioni dalla fisiologia alla patologia stando nell'ambito della fisiologia ci sono tre o quattro buone ragioni per dimenticare le cose ha un esempio se ha un esempio concreto ne possiamo discutere ma di fatto diciamo succede qua c'è una domanda non so se sia possibile però è possibile dare una definizione di coscienza da un lato perché se ne è parlato tanto probabilmente abbiamo idea di che cosa sia però e dall'altro lato ha parlato verso la fine della velocità le macchine veloci ma non coscienti però c'è anche sempre il discorso sull'intelligenza artificiale che forse potrebbe andare verso forme di coscienza secondo lei è possibile? allora la prima dunque c'è una definizione pre-scientifica che però funziona ed è la più generale quella su cui perlomeno il mondo scientifico si è accordato come definizione operativa di cos'è la coscienza è sinonimo di esperienza ovvero si definisce in negativo è tutto ciò che scompare quando ci addormentiamo di un sonno senza sogno quando veniamo anestetizzati tutto questa è la coscienza e la coscienza include anche la coscienza di puro buio non deve essere necessariamente autocoscienza io che mi vedo che rimpiango che mi guardo da fuori eccetera eccetera no quello è un dettaglio è una delle tante dimensioni della coscienza quella fondamentale il mistero da spiegare è come fa a esserci qualcuno in quel pugno di materia che vede buio solo buio perché quando ci si addormenta e si viene anestetizzati sparisce anche quel buio quindi la coscienza è tutto ciò che sparisce quando si è anestetizzati questa è la definizione pre-scientifica può essere soddisfacente o meno però è universale e contiene tutto inclusa il sogno sonno senza sogno il sogno è coscienza quindi non c'è bisogno di essere legati all'esterno ci sono tante cose in questa definizione non c'è bisogno di essere legati all'esterno non c'è bisogno di autocoscienza non c'è bisogno ed è quella che si cerca nei pazienti che cerchiamo ed è quella che si cerca di spiegare scientificamente potrebbe essere coscienza di puro dolore e basta ma quella è quella che è rilevante eticamente scientificamente eccetera eccetera dopodiché la definizione scientifica è ancora da trovarsi ci sono dei postulati che potrebbero essere falsificati o invece validati una cosa che la coscienza ha di sicuro è l'unità e la sua incredibile ricchezza di informazione come dicevamo prima ogni esperienza cosciente è così per cui ci deve essere qualcosa che ha a che fare con la ricchezza di informazione e con l'unità esiste una teoria e secondo questa teoria se lei dovesse rispondere secondo questa teoria che è una di quelle che va attualmente per la maggiore le direbbe la coscienza è informazione integrata quindi la capacità del cervello di integrare informazione che dipende da come funziona questo coso unico che abbiamo nel cranio che è molto speciale perché se uno ci pensa bene è un oggetto unico ma non è perché è magico perché ha dentro qualcosa perché è l'unico è quello che integra più informazioni tra quelli che esistono è l'oggetto unitario più grande che esiste tutti gli altri si disgregano computer, cervelletti eccetera sono fatti di elementi che non costituiscono un totuno cioè noi abbiamo riguardo a questo noi abbiamo una digressione che dovrei fare per venire ai computer coscienti noi fisici scienziati abbiamo trovato misure per tutto tranne che per una cosa che è fondamentale non abbiamo non ci siamo curati di trovare una misura o un criterio per definire cosa costituisce un'entità unitaria quindi attribuiamo il dono dell'unità a cose che non ce l'hanno con grande generosità una telecamera digitale noi pensiamo che sia una cosa unitaria la compriamo a un prezzo ma non lo è è fatta di tanti piccoli fotodiodi di pixel non è unitaria sono tante cose il cervelletto ha i capitoli sul libro lo chiamiamo uno ha un nome lo teniamo in mano durante un'autopsia non è frequente però può capitare crediamo che sia una cosa ma non è una cosa ontologicamente non esiste il cervelletto esistono i microcircuiti del cervelletto il cervelletto è una collezione di microcircuiti ontologicamente cioè se andiamo a vedere ciò che esiste lui non esiste è un errore è un'illusione esistono i microcircuiti il sistema atalamo corticale ovvero la corteccia cerebrale invece se andiamo a vedere come è fatta la paragoniamo a galassie computer stelle nebulose eccetera è davvero un'unità e la teoria dell'informazione integrata ha sviluppato una misura di ciò che è unitario ok ora noi normalmente misuriamo la coscienza non utilizzando la teoria dell'informazione integrata non ce l'abbiamo quella misura non sappiamo neanche se è giusta magari un giorno ci arriveremo finché non c'è quella misura cosa usiamo input e output perché dentro non sappiamo come funziona il cervello non sappiamo cosa è importante per la coscienza quindi con i pazienti per esempio gli chiediamo di fare fai questo stringi il pugno destro anestesista o neurologo in terapia intensiva chiede al paziente stringa il pugno destro guardia a destra guardia a sinistra se ottiene risposte appropriate dice ok c'è coscienza d'accordo in generale diciamo che c'è tanta più coscienza tanto più sono complesse le funzioni che uno svolge ma sono stimolo risposte le funzioni motorie e questa è la nostra definizione di intelligenza un animale intelligente è il polipo che fa tante cose impara si muove tra i molluschi è il più intelligente di tutti ma è intelligente è cosciente un polipo se vai a vedere come è fatto il cervello pare di no perché è tutto segregato c'è il cervello nei tentacoli ha tanti piccoli circuitini nei tentacoli ben diverso a sistema telemocorticale molto più simile al cervelletto allora l'equivoco qual è è che noi tendiamo a identificare l'intelligenza con la funzione col comportamento con i rapporti di input output ingressi e uscite ma non è così la coscienza può essere presente quando sogniamo quando non c'è nessun comportamento e può essere completamente assente in un cervelletto o in un computer come Watson che si comporta come me anzi meglio di me ma non esiste non c'è perché non costituisce un'unità e non integra l'informazione quindi quando si dice intelligenza artificiale uno tende a dire intelligenza uguale coscienza ma intelligenza diversa da coscienza il cervello il cervelletto è intelligentissimo sa già dove andranno a finire le cose ma non è cosciente uno può essere cosciente ma poco intelligente o può essere cosciente semplicemente del nulla uno medita entra in quegli stati ed è cosciente del nullo o del tutto ma non fa niente con questo ora ci sarà un computer cosciente un giorno questa è un'altra è un'altra domanda nel senso dipende da come è fatto ma non lo misurerai mai su quanti bit per secondo scambia o se vince o no a Watson se ti batte a scacchi o così via lo misurerai solo quando avrai la misura giusta se quella dell'informazione integrata sarà giusta quando potrai misurare quanta informazione è integra e non saprai di cosa è cosciente a meno che lui non te lo dica come non saprai di cosa è cosciente un pipistrello che usa l'ecolocalizzazione ma la domanda è e allora e ci sono due binari nella ricerca dei computer uno potrebbe portare a macchine intelligentissime velocissime che magari ci fregano ma non sono coscienti l'altro binario potrebbe portare a macchine veloci sicuramente veloci magari un po' meno ma coscienti uno è la classica diciamo intelligenza artificiale che è quella di fare processori sempre più veloci e l'altra è il computer neuromorfico cioè capire come è fatto il cervello e costruire un computer fatto come è fatto il cervello che però non è fatto di carbonio ma è fatto di silice ma è uguale i principi sono gli stessi l'unità la differenziazione eccetera eccetera quello neuromorfico chi lo sa no? se il computer neuromorfico la domanda è preferiamo avere degli agenti velocissimi e incoscienti o avere a che fare con degli agenti velocissimi e coscienti un giorno io preferisco la seconda io personalmente preferisco la seconda se mi chiedete così spero che non accada spero che a un certo punto non lo so ma succederà inutile star lì non a noi ma succederà ai nostri figli ai figli dei nostri figli e bisogna farsi un'idea di queste cose bisogna ragionarci sopra io preferisco avere a che fare con uno che è cosciente però ti devi assumere la responsabilità di quella cosa che hai costruito perché se poi quella cosa lì sta male o l'hai disegnato in un modo che è sofferenza pura piuttosto che lì c'è Asimov ci sono tutte c'è una letteratura che diventerà attuale a un certo punto in ogni caso siamo molto vicini a quelle veloci incoscienti che ci possono fregare non voglio essere catastrofista ci aiutano ci aiutano sicuramente però dobbiamo mettere in conto poi che che la velocità è cieca grazie qui c'è una domanda ho almeno un paio di mani alzate una qui davanti in prima fila prego lei ci ha fatto vedere una serie di numeri ovviamente sono stati fatti degli esperimenti su una serie di pazienti diversi quelli sono numeri uguali per ogni paziente o sono medie e se sono medie c'è una correlazione tra la velocità l'intelligenza e la capacità di imparare io insegno bella domanda bella domanda allora sono quando dico 300 millisecondi potrebbe essere 250 350 quindi una media c'è una variabilità da soggetto a soggetto come in tutto diciamo c'è una cosa carina che diceva questo David Hegelman che ho già Eagleman scusate che ho citato prima ho dimenticato di citare Giulio Tononi che è quello che ha formulato la teoria dell'informazione integrata giusto per i credits ma invece questo David Hegelman proprio come Aquila diceva una cosa interessante lui è quello che ha fatto questo lavoro su il fatto che le cose non arrivano sincroni e quindi c'è una finestra c'è una variabilità lui diceva le persone basse vivono molto più vicino al presente di quelle alte perché ci mette più tempo la realtà se hai il braccio più lungo ci mette di più quindi c'è questa variabilità ma se questa correla con l'intelligenza allora lo stesso Eagleman ma è lì che secondo me bisogna stare attenti con l'intelligenza sì d'accordo uno può fare dei test di reazione a task che sono più o meno complicati e proprio lui se non sbaglio leggevo in questi giorni in cui mi avete costretto a studiare ha sviluppato un test per vedere quanto uno è funzionale eventualmente anche poi da utilizzare per non dico per un'assunzione però un pilota militare sicuramente quanto uno risolve velocemente ed è un task molto semplice che si basa su tutto sulla velocità sulla tempistica indubbiamente c'è una variabilità e quindi poi lui per esempio è uno di quelli che verosimilmente tende a identificare la velocità come un fatto con l'intelligenza con l'imparare dipende perché poi la plasticità dei neuroni è un discorso che si svolge su una scala temporale un po' più un po' più lenta per cui sicuramente la sincronia il fatto di avere dei tempi belli tirati e precisi nel cervello è fondamentale per imparare perché l'apprendimento tra i neuroni si gioca tutto sul fatto di come arrivano gli impulsi dei neuroni cioè noi impariamo è anche intuitivo perché la plasticità sfrutta un meccanismo sfrutta la tempistica con cui arrivano le informazioni per esempio io mi condiziono il famoso cane di Paolo perché suonavi la campanella e poi gli dava mangiare suonavi la campanella alla fine suonavi la campanella e lui produceva i succhi gastrici perché perché arrivava il segnale suona la campanella e poi arrivava il cibo succede con una tempistica precisa quella connessione si rinforza e poi basta che arrivi suona la campanella e lui salì e lui produce perché quindi la tempistica è fondamentale per imparare è fondamentale per la plasticità e si gioca sui millisecondi è vero quindi un cervello ben tirato che ha i tempi precisi è più facile che impari accuratamente non lo so questo non lo so io penso che si possa diventare io penso che si possa diventare così nell'ambito della fisiologia penso che si possa diventare così guarda basta pensare a cosa possiamo imparare noi quando giochiamo a tetris quando impariamo un nuovo sport quando impariamo a sciare questi sono esempi di coordinazione motoria eccetera ma dal punto di vista cognitivo è la stessa cosa cioè io penso che sì decisamente sì però starei attento appunto cioè no è corretto identificare la velocità con l'intelligenza a seconda della definizione operativa di intelligenza che hai se l'intelligenza la misuri con la velocità va bene però direi intelligenza diverso da coscienza da esistere si può essere intelligenti senza esistere si può esistere senza essere intelligenti prego sì buonasera buonasera una curiosità adesso noi ci ne dimentichiamo ma negli anni 40 e 50 quando i computer non erano quelli di oggi si ricorreva ai cosiddetti calcolatori umani cioè delle persone che avevano delle abilità numeriche talmente elevate che venivano usati proprio per fare dei conti come si spiegano le loro straordinari prestazioni in base a quello che hai detto questa sera? io direi in base a quello che hai detto stasera ci sono dei sistemi che includono anche allora io adesso vi parlo no? ma io non sto pensando alle parole che devo dire ma neanche lontanamente o a come coniugare le sillabe che movimenti fare eccetera eccetera è straordinaria questa cosa no? se ci pensi questo è il linguaggio poi c'è la matematica eccetera ma evidentemente c'è un modello dentro di me per cui io do un comando di massima ma neanche esattamente so quello che sto per rispondere anche perché non so rispondere alla tua domanda no però però è vero è vero che non ci sto pensando alle parole che dico d'accordo? quindi dentro di noi ci sono dei calcolatori altro che l'Apple 2e no? riconoscono i pattern predicono producono il linguaggio tutta la segmentazione la segregazione tutto quello che che sto dicendo adesso è detto da un altro non lo sto dicendo io poi io ho un senso vago di quello che ti voglio dire più ci penso meno mi viene in mente mi dimentico però è così e la stessa cosa penso per la matematica poi ci sono quei casi come dici no? anche i Savant ci sono persone che hanno delle doti particolari e che hanno un controllo del tempo incredibile per esempio ragazzi autistici che sono molto dotati anche da questo punto di vista no? sono precisissimi con i tempi nel tenere i tempi per cui esistono dentro di noi dentro noi abbiamo dei calcolatori e c'è chi l'ha allenato di più c'è chi ce l'ha più veloce c'è anche qui una variabilità però esistono e quindi non mi stupisce questa cosa direi l'ultima domanda perché alcuni cervelli percepiscono una sensazione di freddo mi dicono quindi penultimo ultime due domande prego sì buonasera mi ricollego in parte alle due domande precedenti io avevo sentito parlare di una sindrome neurologica che era la sindrome di Asperger in cui c'era un'alterazione dei collegamenti neuronali di quello che lei ha chiamato prima connectoma e mi chiedevo appunto se poteva fare un accenno su questa sindrome e se questa sindrome poteva influenzare appunto la velocità di trasmissione del segnale e conseguentemente anche il discorso dell'apprendimento grazie ci sono in queste sindrome ci sono dei lavori recenti che dicono c'è un stato di iperconnettività in alcune zone del cervello e questi soggetti hanno anche sinestesia sinestesia vuol dire che praticamente tendono ad associare una modalità sensoriale a un'altra cioè alcune lettere vengono viste di un colore o alcuni colori cioè o i suoni vengono associati a colori eccetera che testimonia un certo livello di iperconnettività ora questa sindrome che lei menziona è una sindrome dello spettro dell'autismo altamente funzionale un po' quella che dicevamo prima cioè sono soggetti che sanno fare cose che pochi sanno fare e però poi magari il loro repertorio la capacità di interagire con l'ambiente su questo hanno altre difficoltà ma dentro hanno un mondo che lì sicuramente è tutto un bilancio no? è sempre tutto un bilancio dove guadagna una parte e perdi dall'altra e probabilmente queste persone hanno un mondo molto ricco e preciso all'interno che però in quanto tale fatica poi a rapportarsi all'imprevedibilità e alla variabilità del fuori è sempre tutto un bilancio per cui sì no esistono queste sindrome c'è un substrato che ha a che fare con il connettoma grazie prego l'ultima domanda di stasera buonasera entrando un po' nel suo campo il tempo e la coscienza nel paziente in coma chi lo sa chi lo sa cioè allora un paziente in coma tempo non esiste un paziente che è veramente in uno stato vegetativo penso che non esiste non esiste il tempo non esista nulla per un paziente che ha una diagnosi in stato vegetativo corretto cioè un paziente che è incosciente e poi ci sono tutte quelle sindrome di mezzo che produciamo noi altri artefatti che produciamo con l'accanimento terapeutico che a volte funziona che salvi una vita ma poi per una che salvi crei tre cervelli che non conosci e e lì ci sono questi scali di grigio in cui non si sa è difficile saperlo perché quando questi pazienti recuperano la possibilità di comunicare comunque anche quando la recuperano e ti potrebbero dire com'era lo scorrere del tempo nella sua sono fortemente amnesici per cui non fanno fatica retrospettivamente a dirti come stavano le cose per cui è un campo molto difficile molto interessante e molto difficile c'è un caso di un paziente Terry Wallace che si è svegliato dopo 15 anni e beh c'è un se non sbaglio c'è un video su internet disponibile di come lui per lui lui aveva lasciato l'ultimo suo figlio che aveva tre anni si sveglia che ne ha 18 e quando lui cerca i suoi figli lui si risveglia cieco ma sente i suoi figli e quando glieli presentano lui cerca di accarezzare la testa a mezzo metro d'altezza quell'altro è un americano di 18 anni altro un metro e 90 e non si capacita di questa cosa per cui quel tempo non è esistito quello è sicuro grazie ringraziamo tantissimo Marcello Massimini penso che siate d'accordo se lo invitiamo anche l'anno prossimo mi sembra di capire appuntamento venerdì prossimo con Elena Cattaneo che ci parlerà del tempo sempre dentro di noi ma dal punto di vista delle cellule del DNA e di cose che lei conosce e ci illustrerà grazie e buonanotte a tutti grazie grazie mille